Diciannovesima edizione del Pianeta Maldicenza, festival che si snoderà all'Aquila dall'11 gennaio al 20. Maldicenza nel senso positivo e tipico della tradizione aquilane, non nell'accezione negativa del termine, come sempre nello spirito del movimento agnesino. Gli ospiti d'eccezione saranno due, Cinzia Leone e Induccio. La novità è che l'Agnesino sarà legato all'esibizione di band aquilane, che canteranno rigorosamente in dialetto, ma restano anche dei punti fermi come il teatro dialettale. Abbiamo due novità, una appunto è questa di Cinzia Leone e Induccio, l'altra è che quest'anno l'Agnesino lo abbiamo legato a un festival dei gruppi aquilani, che suoneranno il 13 al Renzo Piano. E quindi quella sostanzialmente è una novità, della quale siamo molto orgogliosi, anche perché abbiamo degli ottimi gruppi che ci rappresentano sia all'Aquila e sia al di fuori della nostra città. E queste sono le novità principali. Poi noi riproporremo, come abbiamo fatto gli altri anni, il teatro degli inn-stabili, cioè che siamo appunto noi agnesini, che non siamo né attori né registi, ma facciamo tutt'altro lavoro, che ci uniamo per questa giornata, quindi per un giorno l'anno, per fare un cabaret, diciamo, un cabaret, uno spettacolo brillante e comico, perlomeno ci auguriamo. L'11 gennaio ci sarà la tavola rotonda voci dal passato, le parole e le frasi del dialetto di ieri e oggi. Il 12 gennaio spazio al teatro dialettale, con esponenti del movimento che si cimenteranno nel teatro senza essere attori, il sabato 13, il primo festival San Lustio, con le band aquilane che cantano in dialetto, mentre alle 18 ci sarà la consegna del palio di Sant'Agnese, la premiazione del vincitore dell'Agnesino, e ancora brindisi e dolci come da tradizione. Il 14 si parlerà di ironia e maldicenza, con la Leone Induccio al centro commerciale, mentre la conclusione è prevista il 20 gennaio, con la compagnia teatrale del gruppo dell'Aquila, con cabaret Aquilano. Insomma, un programma ricco e variegato anche quest'anno per un evento che continua ad essere punto di riferimento delle attività aquilali di gennaio, conosciuto anche fuori regione.